E' con noi su Radio San Piacenza 24 il maestro della Salus et Virtus, Roberto Alberti. Buon pomeriggio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora parliamo di questo appuntamento molto vicino a noi, sabato 23 settembre, al Parco della Galeana, Box nel Parco. Esatto, sarà un altro evento firmato Salus et Virtus, come tutti ben sapete. E Box nel Parco è una novità perché, avendo da poco inaugurato questa struttura nel Parco della Galeana, bella, confortevole e accogliente, perché si può dire così, cercheremo di valorizzare il tutto con una bella riunione di pugilato, con 10-12 combattimenti tra i miglior pugili della Salus e sicuramente sarà un grande spettacolo. Lo sport è un valore aggiunto per valorizzare luoghi comunque importanti della città. Esatto, il Parco della Galeana sembra fatto apposta, il pugilato sembra il fiore all'occhiello di questa manifestazione, di questo luogo. Quindi portiamo anche la box e lo spettacolo e lo sport nel parco che è fatto apposta per gli eventi sportivi e cerchiamo di valorizzare il nostro amico Beciu, Carlo, che è il titolare del locale del chiosco del Parco e vedremo di fare qualcosa di carino. Senti Roberto, com'è andata l'estate per i tuoi pugili? È andata bene, abbiamo avuto tante soddisfazioni, tanti eventi, abbiamo avuto dai giovani ragazzi, adesso l'Annalisa, mia figlia che è maestra anche lei di pugilato, porterà l'Aurora Vesani giù a fare il titolo italiano, delle ragazze femminili, è 12 anni quindi è già un evento, è un talento in crescita alla Salus e gli altri via via vedrete sabato 23 e cosa presenteremo, insomma avremo sempre delle novità e insieme alle novità avremo i ragazzi che si sono distinti in questi anni, i pugili più affermati diciamo. Poi lo sport aggrega molto e fa molto gruppo ed è bello, una delle cose più importanti dello sport, solitamente settembre è un mese dove parte una nuova stagione, sempre più giovani si avvicinano allo sport, come sta andando in questo senso? Beh guardi, ragazzi ne abbiamo, ragazzi che si avvicinano allo sport, che poi riescono, però è importante che si avvicinano e che vengono in palestra, che si tolgono dalla strada e che diventano da ragazzi e escono che sono uomini, quindi speriamo che tutto questo possa contribuire alla formazione di nuovi talenti e di nuovi... cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. E allora appuntamento sabato per questo evento che si chiama Box nel Parco, da che ora partite? Bene, partiremo dalle 5, ma prima faremo una qualche esibizione, faremo giocare qualche ragazzo, faremo giocare qualcuno che vorrà provare a salire sul ring a farsi un po' di movimento, do movimento, dico eh non pugni perché i pugni se li danno i pugili, e poi dalle 5 faremo ben 12 o 13 cose, quindi si spera in due ore, due ore e mezzo di spettacolo sicuramente. Fantastico, grazie Roberto per essere stato con noi. Grazie a tutti voi, un abbraccio a tutti, vi aspetto sabato, sabato pomeriggio alle 5. Il maestro della Salus Virtus Roberto Alberti, ospite di Radio Sound Piacenza 24.